In primis perché vengo da un territorio, quello della provincia di Venezia, molto toccato dalle eco-mafie e che ha vissuto anche una storia di mafia locale, la mafia della Rivera del Brenta. Questa è stata una storia che mi ha toccato molto e è stato uno dei motivi per cui 13 anni fa mi sono dedicato alla politica. Secondo lei le priorità per la lotta alla corruzione, perché sia efficace soprattutto, quali dovrebbero essere? Innanzitutto maggiori controlli nei confronti delle attività economiche. La Commissione della Mafia all'interno di queste, soprattutto in un momento così particolare e così difficile dell'economia. E poi io sono personalmente, e anche la Lega Nord lo è, contrario al soggiorno obbligatorio. Noi riteniamo che l'invio di chi commette dei reati legati alla mafia nei territori distanti a dove li ha commessi sia una norma difficile da accettare in territori che sono tradizionalmente vergini a questo. Lei è uno dei pochissimi candidati che hanno aderito del suo partito. Ha intenzione di diffondere in qualche modo questa adesione? Pensa che sia fattibile? La Lega Nord è tradizionalmente un partito contrario alle mafie, alla Commissione della Mafia all'interno della politica. Quindi noi già lo siamo di fatto contrario, non abbiamo bisogno di una adesione formale. È chiaro che però mi farò promotore, lo sono già promotore, della sottoscrizione di questo con gli altri iscritti al gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ci tengo anche a ribadire però che questa è stata una campagna spontanea e quindi come tutte le campagne spontanee non può avere l'adesione totale nel momento in cui prende avvia.